ciao a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi vi voglio presentare una di quelle vetture che possiamo un po chiamare le introvabili un audi a3 sportback 2000 turbodiesel 150 cavalli col pacchetto sport line quindi s line fuori e dentro che ce ne sono pochissime noi qui ne abbiamo una veramente molto molto bella vettura del luglio 2016 con 72 mila chilometri vettura ex dipendenti audi che importiamo noi direttamente dalla germania con il suo libretto service con gli italiani fatti in audi in germania quindi chilometraggio certificato vettura che la proponiamo nel colore nero metallizzato sensori parcheggio anteriori e posteriori ruote da 18 fare lo xeno specchietti richiudibili elettricamente cruise control navigatore clima automatico sedili riscaldati volante sportivo multifunzione interni pelle e stoffa di serie nel pacchetto s line con 24 mesi di garanzia chilometraggio certificato insisto in questa cosa perché è molto importante la vettura noi ve la diamo già con il tagliando fatto quindi ritirate la vettura e non dovete fare nulla se non che usarla la vettura dove la trovate la trovate qui a motta di costigliore d'asti telefono 0141 96 92 14 sito internet bianco auto punto it vi volevo inoltre ricordare che per qualsiasi evenienza di assistenza meccanica noi abbiamo l'officina aperta dal lunedì a venerdì e anche a sabato mattina quindi se avete bisogno di un tagliando di un lavoro in garanzia di una qualsiasi cosa noi siamo a vostra disposizione vi volevo anche ricordare un'altra cosa che la garanzia dei 24 mesi è a copertura europea quindi che voi siate di asti di torino di milano o di padova se la vettura un problema in garanzia la garanzia viene effettuata dove abitate sul posto io vi saluto e alla prossima ciao a tutti amici